Qualcuno di voi l'altro giorno mi ha detto Don, ma non ci sono più i martiri che c'erano all'inizio della vita della Chiesa, nei primi 3, 4, 5, 6 secoli, come ci raccontavi nelle puntate precedenti? No, non ci sono più quei santi lì. Alcuni hanno fatto degli studi e si sono accorti che nell'ultimo secolo, negli ultimi 100-150 anni, la Chiesa e la Cristianità in genere ha avuto più martiri che nei precedenti due millenni. Ci sono andati più martiri negli ultimi tempi che prima. Oggi voglio parlare proprio di uno di questi, uno tra migliaia, decine di migliaia di questi martiri, uno che è il Beato Elia del Soccorso. Lo troviamo raffigurato in questa opera moderna, mentre viene colpito, fucilato dal proprio assassino e dal punto di vista così immaginativo, figurativo, tiene in mano, accarezza un agnello, una pecora, segno proprio della sua missione. Infatti il Beato Elia del Soccorso, il sacerdote Agostiniano, si stava occupando del suo greggio, come un buon pastore, si occupava del suo greggio mentre viene ucciso. Siamo in un periodo storico, all'inizio del 1900, in cui in Messico si scatena una persecuzione fortissima contro i cristiani. I cristiani reagiscono in questo caso non semplicemente senza violenza, ma si mettono anche loro a combattere una guerra che passerà la storia col nome di Cristiada, guerra dei Cristeros, di coloro che erano dalla parte di Cristo o comunque i cristiani che si erano uniti in Messico per combattere contro la persecuzione, un combattimento proprio armato. E il Beato Elia del Soccorso viene ucciso all'inizio di questa guerra per il semplice fatto di essere un prete cattolico e per il fatto di essere lì a curare i contadini nel suo villaggio. Questo prete, questo martire della cristianità diventa testimone così del fatto che non è necessario fare qualcosa di straordinario per essere santi, ma semplicemente svolgere l'ordinario. Lui faceva il prete, niente di più. Svolgere l'ordinario della propria missione. Così per noi oggi, in questa Quaresima, diventa importante, diventa essenziale. Fare bene il proprio dovere. Don Bosco diceva per farsi santi bisogna certo essere allegri, fare bene il proprio dovere quotidiano. Qual è il mio dovere quotidiano oggi? In che cosa posso essere martire oggi? Studio il lavoro, fare bene il mio dovere in famiglia. Forse queste sono le strade principali oggi per vivere coerentemente la nostra vita cristiana. Buona giornata! Grazie a tutti!